Alla prima tappa di Smartech siamo con Domenico Bianco, General Manager Elsie, organizzatore dell'intero tour. Perché nasce Smartech? Smartech porta praticamente due claim, Technology Tour e Crescere Insieme. Technology Tour chiaramente è un tour di tecnologie che portiamo in sei tappe su tutto il territorio Calabria. Avremmo voluto farne 60 di tappe ma chiaramente i tempi e le aree ci consentono di farne perlomeno sei. Abbiamo grande interesse e grande fermento intorno a questo obiettivo che è quello di incontrare più possibili operatori del settore per dimostrare tecnologie che tutti i giorni ci danno delle opportunità e novità per far crescere il nostro business. Infatti l'altro claim è Crescere Insieme. Vogliamo assolutamente, così come da 30 anni, continuare a condividere il nostro supporto e il nostro servizio al mercato perché la crescita anche di business passa attraverso la condivisione e la formazione del mercato. E questi sono i nostri due obiettivi. Tecnologie e crescita. Un altro obiettivo è anche sicurezza a chilometro zero. Sì, oggi diciamo sempre di più abbiamo bisogno di sicurezza a tutti quanti nelle nostre case, nelle nostre aziende, nella vita quotidiana. La tecnologia sempre di più ci permette oggi di essere più sicuri, di sentirci più tranquilli. E queste tecnologie portate dall'installatore, per cui non chiediamo agli installatori di fare centinaia e centinaia di chilometri per vedere delle innovazioni o essere informati su come si sviluppano i settori. Ma bensì abbiamo deciso insieme alle aziende che da sempre condividiamo, per cui il gruppo CAME, il marchio Benter di Jones Control, Uniview, che è Eurotech, ormai è un partner da oltre quattro anni, per cui praticamente diciamo insieme alle aziende vogliamo portare le tecnologie dall'installatore. E questo in collaborazione con i vostri clienti diretti che sono dei distributori comunque? Sì, i nostri distributori che ormai da oltre vent'anni condividono, forse anche trenta, condividono questo pensiero di fatto, cioè quello di chiaramente fare costante formazione e dare servizi direttamente a casa del nostro potenziale cliente. E quindi citiamoli questi protagonisti distributori che collaborano e che costruiscono con Elsie Smartech. Sì, proprio il crescere insieme è dedicato al mercato, ma chiaramente insieme ai distributori che hanno condiviso questo evento. Oggi partiamo a Cosenza dalla Fratelli Scarnati, ma ogni settimana abbiamo una tappa, la prossima è alla Sovatem, a Rossano Calabro, dei signori di Luca. Poi saremo a Catanzaro, alla Elco Ingros del signor Salvatore Miniaci e così via andremo alla Vitale Sud, alla Mezzia Terme, tra le altre cose il snodo centrale per la Calabria, appunto della famiglia Vitale. E andando avanti andiamo sulla costa tirrenica, all'alto tirrenico, alla Dimel di Praia Mare e termineremo a Reggio Calabria, non per meno di importanza, anzi Reggio Calabria ci rappresenta alla grande in Calabria, ma in realtà proprio organizzativamente alla Majorano di Reggio Calabria. Chiudiamo praticamente questo fantastico tour.